Sono le 14 di questo lunedì di Pasquetta, quando il pullman del Chiavo Verona arriva al Castellani di Empoli. I giocatori entrano negli spogliatoi e si preparano per la partita che non si giocherà. Gli azzurri toscani non si presenteranno infatti, rimanendo in quarantena fino al prossimo 7 aprile. Sono 11 infatti i giocatori e due dello staff tecnico risultati positivi nell'ultimo giro di tamponi. Ed è stato l'arbitro che 45 minuti dopo l'inizio della partita, quindi alla fine dell'ipotetico primo tempo, ha verificato e certificato che la squadra dell'Empoli non si è presentata. Da qui appunto il conclamare della situazione Covid e la richiesta alla Lega del rinvio. Per l'Empoli siamo alla seconda gara rinviata, dopo quella con la Cremonese. Per questa gara adesso la palla passa al giudice sportivo che nelle prossime ore deciderà sull'eventuale rinvio. E Empoli che nonostante due gare in meno rimane in testa al campionato DB tallonato ad un punto da Lecce che ha sbancato l'Arena Garibaldi di Pisa.